Giornata importante oggi in Senato, riconoscimento e rispetto dalla volontà popolare dei cittadini di Torre De Busi. Il progetto di legge che prevede l'aggregazione del Comune alla provincia di Bergamo è stato approvato all'unanimità, un solo voto di astensione. E quindi dopo 25 anni, questo non si tratta di un abbandono della provincia di Lecco, ma un ritorno a casa, alla terra orobica, dove c'è un legame storico-culturale e dove c'è anche un efficiente sistema di servizi pubblici con la sponda bergamasca. Un iter veloce, iniziato un anno fa per iniziativa dell'amministrazione comunale e del Comitato per la tutela di Torre De Busi, una petizione popolare che ha visto la sottoscrizione della maggioranza assoluta dei cittadini e delle cittadine di Torre De Busi, il passaggio nello scorso mese di febbraio in Consiglio regionale della Lombardia all'unanimità, oggi in Senato, ma anche un ultimo tassello, un'ultima tappa, il passaggio alla Camera dei Deputati, che speriamo avvenga velocemente, come è stato qui in Senato, per rendere efficace questa legge e quindi renda efficace il passaggio di Torre De Busi e ritorno a Bergamo.